Urbino, Italia, questo è il luogo dove si creano capolavori dell'oggi e del domani, in un'eccellenza che percorre dal rinascimento ad oggi un unico cammino, nato nelle radici della cultura italiana e condotto fino all'avanguardia tecnologica. Storia, arte e progresso si incontrano. Qui nasce nel 1967 la Benelli Armi. La vocazione per la meccanica fine aveva portato i fratelli Benelli a fondare nel 1911 nel centro Italia la Benelli Moto. La loro passione li conduce a metà degli anni Sessanta a lanciarsi nel mondo della produzione armiera, intercettando la visione di un ingegnoso meccanico bolognese, Bruno Civolani, che sottopone alla loro attenzione il progetto di un'arma semi-automatica canna liscia, con un cinematismo di nuova concezione. In quel momento nasce il sistema inerziale. I prodotti Benelli rappresentano l'espressione massima delle applicazioni tecnologiche e umanistiche in contesto industriale. Prodotti come il leggendario 121 e la gamma SL80, per arrivare nel 1983 al primo Monte Feltro, anno in cui Benelli entra nella sfera del gruppo Beretta, e al genio indiscusso del Rinascimento è dedicata nel 1987 la famiglia Raffaello. I prodotti Benelli, anno dopo anno, conquistano i mercati internazionali. Si affermano anche sull'esigente piazza americana con il Super Black Eagle e con il Nova, fucile a pompa che ha portato alla rivoluzione nel campo degli slide action. Benelli poi compete con i migliori produttori di armi al mondo e si aggiudica la fornitura degli M4 iMarines. L'innovazione inoltre si esprime attraverso l'industria 4.0 Benelli. È l'arte del lavoro di donne e uomini che, in sinergia completa con l'intelligenza artificiale, consentono di realizzare sistemi e tecnologie che diventano un patrimonio industriale di Benelli. In questo patrimonio si colloca al centro una parola unica, pronunciata per la prima volta in Benelli. BEST BEST è l'acronimo di Benelli Surface Treatment. L'esclusiva tecnologia è protetta da segreto industriale. L'eleganza e l'identità Benelli danno poi vita ad un prodotto dallo stile inconfondibile che riscrive i canoni nel mondo dei sovrapposti. Nasce l'828U. U è l'iniziale dell'antico Ducato di Montefeltro. 828 è il codice identificativo di Urbino all'UNESCO, come sito Patrimonio Culturale dell'Umanità. Da sempre Benelli è attenta agli stimoli del mercato, amplia la propria offerta e introduce la prima carabina Bolt Action Benelli. La Lupo Scienza, conoscenza ed eleganza si fondono in un prodotto che ancora una volta stravolge ogni canone. Benelli offre assistenza e organizzazione commerciale in modo stabile in più di 100 paesi nei 5 continenti. L'universo Benelli dà vita alla connessione unica ed armonica tra prodotto uomo e responsabilità sociale, ad esempio nella salvaguardia dell'ambiente, con il progetto Benelli Green, così come l'utilizzo delle migliori tecnologie per la riduzione degli impatti ambientali legati alla produzione. L'amore per il meglio si esprime anche nella personalizzazione di prodotti in serie limitata. Legni pregiati e incisioni impreziosiscono capolavori unici per eleganza e raffinatezza, in un'arte nata nella notte dei tempi. Una celebrazione dell'estetica coltivata anche nello sport. L'azienda supporta una squadra di campioni mondiali nel tiro dinamico. Benelli sostiene anche diverse squadre nelle discipline compact e sporting. È il senso di squadra ad emergere sul singolo. Che sia durante l'attività venatoria, su un campo di tiro, in fabbrica, in progettazione o in distribuzione, l'obiettivo Benelli è sempre stato e rimane il conseguimento dell'eccellenza pura, senza compromessi. Benelli, più avanti da sempre.